fermi tutti non ho apportato le dovute pinze le pinzette quelle che vecevate le sopracciglia di voi quindi prendete sempre questa indiscrezione e fate il gesto voi per me detto questo non sembra il gesto delle dovute pinze perché c'è una mano che occupa la mano che occupa di che cosa dobbiamo parlare dobbiamo parlare dell'indiscrezione ragazzi e appunto per questo quindi prendetela con le pinze come dicevamo prima ben ritrovati a tutti i Gabon and the good small febio no good febio sembra che la juventus sia interessata ad un giocatore che è nel merino dell'inter da parecchio tempo soprattutto nell'ultima estate lo è stato e che giocatore ragazzi parliamo dell'ultimo pallone d'oro Luca Modric è un'indiscrezione che è uscita su sport mediaset ma comunque andando a spulciare un po' diciamo tutte le testate giornalistiche se la stanno praticamente rimbalzando l'una con l'altra assolutamente sì avrebbe veramente del clamoroso per quale motivo innanzitutto perché Modric non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con Real Madrid in scadenza sembra proprio di no in scadenza oddio quando è la scadenza 30 giugno 2020 2020 quindi non questo giugno ma il prossimo il prossimo però la Juventus vorrebbe averlo per la prossima stagione quindi giugno dell'anno prossimo e anche l'Inter d'altronde anzi forse l'Inter addirittura lo vorrebbe già da gennaio se possibile no difficile difficilissimo il desiderio dell'Inter è proprio quello di volerlo il prima possibile quello sicuramente ma credo che il desiderio dell'Inter era già di provare a portarselo a casa prima dell'inizio di questa stagione ovviamente a giugno poi diciamo che Modric non si è impuntato non si è impuntato e quindi è rimasto a Real Madrid è rimasto a Madrid noi sinceramente possiamo immaginare ipotizzare suppotizzare no volevo dire come si dice? ipotizzare ipotizzare sì vabbè la supposizione vabbè sta a fare un misto suppotizzare suppotizzare ho cognato un nuovo termine va benissimo sul Treccani sicuramente lo aggiungeranno immediatamente oh ci hanno aggiunto Petaloso perché non suppotizzare a questo punto scusate va bene ok ma detto questo la Juventus quando Modric praticamente andrà quasi in scadenza di contratto perché gli rimarrebbe un anno vorrebbe provare a piazzare questo colpo forte anche del buon rapporto che ha con un certo Orge Mendes sì col quale ci ha costruito appunto l'affare Ronaldo c'è da dire se parla di mediazione di Orge Mendes perché in realtà Modric mi ricordo il nome del procuratore ma c'è un altro procuratore non è Mendes sicuramente però per trattare con Real vorrebbero provare a fare questo ripetiamo stiamo parlando di indiscrezioni quindi è tutto tutto da verificare all'interno di questa indiscrezione sembrerebbe che anche il Manchester United sia intenzionato a provarci per Modric ovviamente quindi potrebbe diventare una corsa a tre tra Inter Juventus derby d'Italia mi permetto di dire sì e chi lo sa forse è un po' più defilato il Manchester United un inserimento dello United 34enne che andando in scadenza di contratto per assicurartelo a giugno io penso che con una trentina di milioni di euro no penso anche di meno anche di meno secondo me con una ventina di milioni ti lo porti a casa stavo leggendo Transfer Market adesso sto andando a memoria sì ma quello è il valore da adesso mi sa che è 25 milioni allora calcola che il Real Madrid chiedeva circa una quarantina di milioni ma perché c'ha 33 anni e va per i 34 ragazzi ovviamente il problema però c'è da aggiungere anche questo è appena diventato il pallone d'oro quindi probabilmente un po' la valutazione e soprattutto lo stipendio si alzeranno probabilmente perché dice cavolo sono il giocatore migliore al mondo attualmente ho vinto il premio di riconoscimento più ambito più ambito quindi di conseguenza voglio pretendo anzi un certo stipendio assolutamente sì nel frattempo mi arrivano messaggi ma va bene non è un problema facciamo finta di nulla comunque dicevamo dobbiamo vedere adesso poi come si andrà a defilare questa lotta tra la Juventus e l'Inter perché io penso siano le due principali candidate per assicurarsi il giocatore non vedo probabile un inserimento di altre squadre per il semplice fatto che l'Inter è su giocatore da parecchio tempo mentre invece la Juventus è proprio forte del fatto che c'è Ronaldo esatto c'è Ronaldo in primis e dopodiché è una delle maggiori se non attualmente la maggior potenza a livello europeo quindi ha quell'appilling in grado di poter accavarrare un giocatore anche del calibro di Modric oltre a Cristiano Ronaldo e fu così che Modric arrivò alla Roma io mi sento sarebbe da sentisse male veramente mi lancio dentro la montana dei trevi in nudo anzi in perizoma giallorosso e nemmai comunque Juventus che può sinceramente rompere le scatole all'Inter per la colza al giocatore questo sicuro chi ci andrebbe a guadagnare beh Modric chi lo prende lo prende ci guadagna assolutamente si è un giocatore che se commenta la sera tu lo vedi più adatto all'Inter più adatto all'Inter più adatto all'Inter si perché comunque sarebbe il giocatore principe della squadra non lo vedi più adatto alla Roma non c'entra niente la Roma stiamo parlando di Roma sto provando ad inserire un'indiscrezione magari mettiamo in giro sta voce magari Modric sei in decora capito dice ma per te tra i due litiganti il terzo gode ecco capito certo ovviamente comunque lo vedo meglio all'Inter perché sarebbe più importante per lo sviluppo della squadra per l'importanza proprio che andrebbe a ricoprire diciamo che alla Juventus c'è un certo Pjanic che c'ha quella qualità tecnica in fase di impostazione aspetta però Modric non fa proprio il mediano davanti alla difesa all'occorrenza vorrebbe farlo io te parlo di qualità tecniche te parlo di un giocatore simile che nell'Inter andando a memoria non ci sta non ci sta per quanto possesse Brozovic un grande impostatore o comunque un buon mediano davanti alla difesa non è a livello di Modric quindi diciamo che c'ha due caratteristiche è diverso sono simili ma differenti ovviamente la caratura di Modric è completamente diversa da quella di Brozovic per quanto Brozovic possa essere un campione assolutamente non è un cattivissimo Modric è un altro livello assolutamente parlavo di Pjanic proprio perché secondo me alla fine è quello il giocatore che può assomigliare di più a un certo a un certo Modric è quello che ci può assomigliare di più però potrebbero tranquillamente coesistere in un centrocampo a tre dove Pjanic si piazzerebbe come solito davanti alla difesa e Modric a fare la mezza a destra come al solito a sinistra insomma c'hai la scelta proprio ampia tra tutti i giocatori che c'ha la Juventus quindi non sarebbe il problema della Juventus la coesistenza con Pjanic anzi potrebbe essere una coppiata devastante mamma mia probabilmente allora al centrocampo della Roma a fianco a Zonzi ancora costa Roma basta non c'è vero nemmeno a rimpolpare un centrocampo con Zonzi e Zagnolo a dire le punte oppure un Pellegrini insomma non ci sarebbe affatto male ci fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti perché ripetiamo questa è un'indiscrezione di calciomercato però è ovvio che se esce fuori un'indiscrezione da una vocina se passa una voce dalla voce diventa una conferma e fu così che andò alla Roma mi piace commentate condividete iscrivetevi al nostro canale qualora non lo aveste ancora fatto ma io voglio sapere l'ultimo parere definitivo da te secondo te Modric alla fine perché poi ha visto i problemi del Real già mi sta venendo lì perché mi immagino una domanda che sarà una stronzata micidiale vai forza non me la fa scontare allora Modric manca un anno di contratto sembra non voler rinnovare problemi con Real Madrid l'altro giorno ha fatto una dichiarazione dopo la partita che era de Coppa non mi ricordo non sto capito dove è arrivata Modric che ha detto eh ma dobbiamo essere tutti più umili dobbiamo metterli a darito si ma è stato finito a darito dobbiamo essere tutti in giro dobbiamo essere tutti più umili perché comunque scendiamo in campo contro voglia magari e dobbiamo migliorare questo lui ha detto a Cocci che cazzo mi vuoi chiedi non rinnova secondo te va o non va da un'altra parte ma certo che va da un'altra parte ma era già scontato quest'estate che comunque c'era la volontà cioè se comunque Florentino Perez quindi secondo te alla fine realmente non rinnova non si convince il Real no no secondo me lui cambia l'aria Morillo voleva già fare quest'estate io questo volevo sapere però ci volevo arriva dicendo i problemi che sta affrontando attualmente il Real Madrid perché a prescindere perché a prescindere da questo già l'estate appena passata ci ha dimostrato che comunque è rimasto alla fine non ha rinnovato ma è rimasto è rimasto ma per quale motivo perché Florentino Perez gli ha rotti i coglioni gli ha detto no tu da quante muovi punto la mia domanda è se si impunta pure a sto giro Perez magari riesce a convincere a farlo rinnovare ma assolutamente no perché un conto è convincere un giocatore a rinnovare un conto è convincere solamente a restarlo e comunque portarlo a scadenza a farlo restare e comunque portarlo a scadenza poi del contratto scadenza naturale quindi nel 2020 sono due cose leggermente diverse secondo me ci passa un mare di roba e come la vedi l'ipotesi che Florentino Perez dice te scade nel 2020 bene tutta sta prossima stagione te la fai qua tu non te muovi io ma impunto e poi vai dove cazzo ti pare e Modric farà così nel senso poi dipende quanto vuole impuntarsi perché io penso che loro abbiano già raggiunto un accordo se state appena passate dove il giocatore gli ha detto no dove il giocatore gli ha detto io ti resto questa stagione ma tu la prossima mi lasci andare senza se e senza ma perché altrimenti sarebbe già andato via secondo me per come la vedo io quindi secondo me Modric alla fine di questa stagione come ho detto prima senza se e senza ma saluta il Real secondo me ti posso dire una cosa dipende da come il Real affronterà il campionato e la Champions League di quest'anno no secondo me a prescindere proprio a prescindere da tutto lo sapremo solo vivendo quello che succederà ci raggiorneremo quest'estate insegnatevi le mie parole quando arriverà con la bandiera della Roma con la bandiera della Roma viva la figa ci scrive e arriva Modric mette il piede sull'aereo arriva il Barcellona e ce lo prega il Barcellona pure Modric basta che lo fa come Bastos Michel Bastos ricordate che va sotto la curva Lazio Basta che fa ciao 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 Grazie a tutti.